finalmente ci conosciamo ha detto edoardo tavassi a bread prima della presentazione ufficiale finalmente dopo sette mesi brand ha riabbracciato la sua joelle felice con un mazzo di rose tra le mani hanno festeggiato tutti fino alle 8 di mattina tavassi ha detto a tutti i presenti grazie a tutti mi avete fatto eliminare intanto hanno festeggiato insieme antonella e nikita e hanno ringraziato tutti nikita ha detto grazie per tutto il sostegno che mi avete dato ormai era diventato un appuntamento fisso il televoto vi ringrazio tantissimo abbiamo vinto insieme se non era per voi col cavolo sono stra grassata fra un po mi cacciano grazie ai donna lisi e guendalina tavassi ha detto il vero vincitore era il gloss di oriana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti